Riparte oggi la linea 117, una linea elettrica, un minibus elettrico che collega Piazza San Giovanni in Laterano, l'ospedale San Giovanni, fa un percorso che passa all'interno del quartiere Monti e consente così ai cittadini senza inquinare di muoversi in un percorso circolare al centro di Roma. Questo si aggiunge alla linea 119 che abbiamo attivato qualche mese fa e che consente di collegare Piazza del Popolo con Piazza Venezia passando su per Trinità dei Monti. Sono linee molto apprezzate, non inquinanti e che sostanzialmente ci consentono di rimettere in funzione questi minibus elettrici che erano abbandonati da anni in un deposito non utilizzati. Ricordiamo che il contratto che abbiamo previsto per rimetterli in funzione prevede anche la manutenzione full service per sei anni. Quindi questo ci consentirà di restituire un servizio ai cittadini e di farlo in tipologia.